Paolo Nicolai, avresti mai detto che un giorno ti saresti allenato a Milano? Onestamente no, però ci siamo, è anche un'ottima struttura, quindi stiamo felici di allenarci qui. Hai passato un po' di tempo dall'Olimpiadi, che è stato il momento più importante della stagione scorsa, come hai passato questi mesi e come hai rivissuto quei momenti esaltanti dell'Olimpiadi di Londra? In questi mesi non è che mi sono dato molto da fare, sono stato fermo, completamente fermo fino a novembre, poi fine novembre ho ripreso un po' di allenamenti con Daniele e dopo a gennaio abbiamo cominciato la stagione federale. Stranamente, a differenza degli altri anni, ancora non si ha un programma definito di quello che sarà il World Tour, c'è un programma di Massima che si conosce, che stagione ti aspetti, quali sono gli obiettivi di questa, che è la prima stagione di un quadriennio che normalmente la prima stagione regala qualche novità e qualche nuova cosa? Il regolamento è ancora sconosciuto, quindi stiamo aspettando, comunque essendo tra le prime dieci dello scorso anno siamo sicuri di far parte del tabellone principale, quindi noi cercheremo di partire da ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè partire dal livello tecnico, tattico, fisico che abbiamo raggiunto per cercare di fare qualcosa in più con un occhio al 2016. Il 2016 è ancora un po' lontano, le cose cambiano molto con il rinnovarsi del quadriennio olimpico, molte delle coppie più forti si sono scoppiate, i campioni olimpici tedeschi, gli ex campioni olimpici di Pechino americani, le coppie cambiano, gli equilibri cambieranno, voi siete molto giovani, come pensi che potrete inserirvi in questi equilibri? Io credo che noi dobbiamo pensare a quello che facciamo noi, abbiamo dato dimostrazione allo scorso anno che se riusciamo a tenere un certo livello noi siamo una coppia di prima fascia e noi dobbiamo cercare di non scendere sotto quel livello come a volte l'anno scorso ci è capitato. Daniele Lupo, in tutti questi mesi dall'Olimpiade che cosa hai pensato e soprattutto che cosa hai fatto fuori dal campo, fuori dalla sabbia? Ho pensato e mi sono riposato diciamo, mentre in campo comunque sono restato ad allenarmi, a giocare, comunque non sono mai uscito dal campo. Per tutto l'inverno? E la verità? Diciamo sono stato fermo pochissimo per la spalla perché comunque dovevo stare fermo e poi comunque ho iniziato piano piano a restare in campo, a giocare con gli amici, a fare un po' di pesi. E sei arrivato a Milano, cosa che probabilmente non avresti detto, che un giorno ti saresti allenato a Milano. Mai, mai. Però stiamo bene, cioè io mi trovo bene, la struttura è ottima, credo che è l'ideale per fare una preparazione atletica. Dimmi che cosa ti aspetti dalla stagione che sta per cominciare, che parte a marzo e quali sono gli obiettivi, di che cosa saresti contento? Io, cioè noi lavoriamo per un unico obiettivo, è quello di migliorare sempre, perché comunque se migliori arrivano i risultati. Non abbiamo un obiettivo fisso perché è ancora presto, quindi l'unico obiettivo che ci siamo messi nella testa è migliorare e allenarsi sempre di più. Migliorare, voi avete fatto una finale, c'è un solo modo per migliorare? Allenarsi, esatto. No, vincere, esatto, vincere. Vedremo quest'anno. Grazie a tutti.